. Dakota Johnson e Sharice Martin stanno insieme, ultimi gossip. Sharice Martin e Dakota Johnson stanno insieme?. Da mesi si parla di una probabile storia d'amore tra Dakota Johnson e Sharice Martin. A quanto pare tra i due le cose si fanno sempre più serie. . A confermare la notizia è stato il sito Usveikli. Una fonte ha rivelato in esclusiva al sito che l'attrice di 50 sfumature e il cantante dei Coldplay hanno avuto l'opportunità di conoscersi bene continuando ad uscire insieme ed ora sono sempre più uniti. . Stando alla fonte Sharice manda addirittura le sue canzoni ad Dakota per un suo parere. . Ciò lascia intendere che la relazione tra i due è molto seria, non si tratta dunque di una semplice avventura. . Ad oggi i diretti interessati non hanno confermato la loro relazione, ma il loro atteggiamento non lascia molti dubbi. . Trapela l'intesa tra Sharice e Dakota. . Sharice Martin e Dakota Johnson a ottobre erano stati visti a Cina insieme a Los Angeles. . Alcune fonti avevano rivelato che i due erano molto complici ed affettuosi. . Ma quella non è stata l'unica volta che sono stati visti insieme. . . Infatti, lo scorso mese Sharice e Dakota hanno partecipato insieme ad un concerto di Nick Grave a Tel Aviv, in Israele. I tre sono stati visti insieme in un ristorante, un testimoni aveva fatto sapere che la presunta coppia non aveva assunto atteggiamenti intimi, ma l'intesa era comunque evidente. . . . . . . . .